Mister, quanto conta questa vittoria? Beh, alla fine sono sempre tre punti. È anche vero che abbiamo battuto una squadra in ottima salute, che non perdeva da 13 partite. Cosa dire? Ragazzi d'oro, ragazzi stupendi, che stanno sempre sul pezzo, quindi bravi. Ecco, notavamo che anche in dieci con un uomo in meno non si è rischiato nulla. Parate straordinarie di Paektovic non ce ne sono state. Beh, è chiaro che quando la squadra è riuscita ad essere matura anche sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto, se vogliamo, dell'impegno e di non rischiare niente. Quindi non era assolutamente facile. Adesso abbiamo fatto in modo di superare questo ostacolo molto molto duro. Adesso ci godiamo la Pasqua e facciamo in modo anche di augurare a tutti i tifosi padovani una buona e serena Pasqua. Ascolta, dopo l'espulsione hai alternato la posizione, l'hai cambiata di Dionisi e di Busetto. Come mai? Come mai? Da difensore centrale preferivo a quel punto tenere più un difensore esperto, che era Dionisi, vicino a me, che non Busettino. Busettino a quel punto aveva la gamba per poter spingere in avanti, ma dovevo cautelarmi dietro nella fase difensiva e direi che l'esperienza di Matteo Dionisi, terzino destro, dopo l'espulsione, è servita molto. L'arbitro cosa è venuto a dirti dopo che è stato trattenuto Ilari per la maglia e l'arbitro ha fatto correre? È venuto da te, si è avvicinato? Ma no, è stata soltanto una situazione dove si cercava di calmare un po' le acque e poi stare a dire un'opinione diversa in quel momento là non avrebbe avuto senso. e si è andato un attimino a discutere, ma è finita là e la partita da parte nostra è stata corretta fino alla fine. Un commento su Ilari come trequartista? Beh, polivalente il ragazzo. Sono stato tre, quattro giorni a capire chi poteva un attimino cercare di tamponare casa grande e di non farlo giocare, perché dal mio punto di vista tutto il gioco dalla crudienza passa per casa grande e di fare in modo che Dionisi e Petrilli lavorassero molto stretti per non far passare la palla in mezzo perché avevano un centrocampo molto dinamico e di qualità e quindi volevo farli giocare sugli esterni. Direi che l'idea tattica è stata, tra virgolette, azzeccata, ma allo stesso tempo sono stati bravi i ragazzi a interpretarla. Beh, sicuramente abbiamo fatto tanta roba, vincere qua, però comunque il cammino è ancora lungo però è giusto che in questo momento qua i ragazzi staccano la spina sia a livello fisico che a livello mentale e facciamo in modo di goderci questa vittoria, di goderci una serena Pasqua. Ultima cosa che la dedichi, la vittoria? Ma io credo che non me ne voglia nessuno, anche oggi sono arrivati tantissimi tifosi e con il cuore e con la testa ci hanno incitato fino alla fine e quindi direi che un applauso oltre ai miei ragazzi anche ai nostri tifosi.